Musica Ci sembrava un'iniziativa interessante prima di tutto perché è un amico e seconda cosa perché lo stimiamo dal punto di vista professionale di conseguenza non potevamo capitare meglio che qua per far crescere un pochettino i nostri ragazzi e in Italia purtroppo il movimento essendo un po' più ridotto rispetto alla Francia hanno poche possibilità di confrontarsi con altri club e in questo momento questo club per noi è l'ideale, anzi un ringraziamento a Antonio Mastropasqua che ci ospita e tutto qua. Ho portato qua un atleta che il 6 aprile deve combattere qua vicino a Besie e quindi direi che la prima data importante è quella lì non poteva capitare di meglio che venire a fare un paio di giorni di allenamento qua in questo momento, prima di questa gara. Beh, prima di tutto i numeri perché in Francia penso che siano 40.000 tessalati contro i 400 in Italia, quindi questo fa una grossa differenza e poi di conseguenza la preparazione di Antonio più sviluppata dal punto di vista tecnico, tattico e più aggiornata rispetto a quella italiana.